E' lo sfiato! 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 Fermate! E' lo sfiato! Fermati un po'! Porco Dio! E' lo sfiato! E' lo sfiato! Deute! E' lo sfiato! No, fammi partire! Fammi partire! Cosa fa di un pilota un campione? Determinazione Velocità Coraggio Ci sono molti piloti con queste qualità, ma per essere un campione spesso non bastano. Bisogna avere qualcosa in più. Perché quando ti spingi fino al limite, quando un solo errore può cambiare tutto, c'è una sola cosa che può fare realmente la differenza. Il controllo Questa è la tua sfida. Questo è VRC3. E' amici di YouTube... YouTube scusate, mi sono sbagliato. E' eccoci qui, bentornati con un nuovo episodio di VRC3 World Rally Championship. E' sempre con il vostro Silver Block. Siamo sempre nelle fasi iniziali del gioco. Gioco carino. Anche che è vecchio, perché è del 2012 questo gioco. Insomma ha la bellezza di 10 anni, 12 anni. E' comunque carino come gioco. Intanto mi sono modificato le livree e le elaborazioni delle auto che già ho conquistato. E siamo sempre qui, da come vi faccio vedere, nell'area iberica. Siamo contro Carlos Hernandez, che poi a fine delle gale dovremo sfidarlo sicuramente, in come tutti quanti i giochi. Questa è la gara che dobbiamo fare. Uno special stage con due ruote auto e due ruote motrici. Evento prova singola. Siamo in Spagna. Buona visione, amici. Ci sentiamo poi. A proposito, registrerò forse... No, sicuro. Sicuro due episodi, due gare a episodio. Forse tre gare a episodio. Vediamo un po' la lunghezza degli episodi come vengono. Vediamo che quello di prima. L'episodio 1 è stato un po' lunghetto. Vediamo un po' un attimino come vengono. Anche se non mi dispiace. Ok. Buona visione, amici. Ci sentiamo poi alla fine del video. Ciao. Le magnifiche vallate della Catalogna sono lo scenario principe del tradizionale appuntamento spagnolo. Le tappe si corrono per gran parte su fondo asfaltato, ma le numerose escursioni su terra richiedono ai piloti una grande capacità di adattamento. ... 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 un po' stretta, sinistra 4, chiude, diventa sinistra 3, destra 4, sinistra 2, lunga, tornante destra, alberi all'interno, poi sinistra 4, 80, dai al centro, destra 4, sinistra 5, destra 5, poi tornante sinistra, tornante destra, 40, sinistra 2, lunga, 40, 40, 40, 40, 40, destra 4, sinistra 3, destra 3, sinistra 5, poi sinistra 5, alberi all'interno, sinistra 3, lunga, 60, attenzione, salto, poi sinistra 5, su tosto, destra 4, apri, salto, sinistra 4, poi destra 5, molto lunga, sinistra 3, edificio all'esterno, destra 6, chiude, diventa destra 2, 40, apri, destra 6, dopo edifici, diventa sinistra 5, destra 5, un ruolo all'interno, poi sinistra 4, indica, in destra 3, 40, destra 5, in sinistra 3, e destra 3, tornante sinistra, barriera all'interno, poi destra 3, sinistra 4, in destra 3, poi sinistra 3, su asfalto, sinistra 4, poi tornante destra, non tagliare, barriera all'interno, sinistra 2, in destra 4, poi sinistra 3, e destra 3, attenzione, tornante sinistra, 40, la siamo vista brutta, sinistra 4, in sinistra 4, in destra 5, poi sinistra 4, un ruolo all'interno, poi tornante sinistra, tornante sinistra, in tornante destra, sinistra 4, in destra 5, poi sinistra 4, in destra 4, 40, in destra 6, poi tornante sinistra, poi tornante sinistra, 40, e tornante destra, sinistra 5, in destra 6, e sinistra 5, tornante e destra, molto stretto, poi sinistra 2, rocce all'interno, apri, 60, destra 4, subosso, tra 4. e 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 all'interno tornante destra e tornante sinistra destra 3 lunga attenzione su ponte sinistra 3 lunga e dopo i tipici sinistra 3 chiude barriera all'interno destra 3 e sinistra 3 sinistra 3 poi sinistra 3 e sinistra 3 barriera all'interno sinistra 3 60 attenzione destra 2 lunga in sinistra 3 destra 4 molto lunga apre in sinistra 6 in sinistra 5 sinistra 4 e sinistra 5 muro all'interno sinistra 4 in sinistra 5 poi sinistra 4 e sinistra sinistra barriera all'interno 40 destra 2 molto fretta sinistra 4 chiude diventa sinistra 3 in sinistra 4 sinistra 2 lunga tornante destra alberi all'interno poi sinistra 4 80 6 al centro destra 4 sinistra 5 destra 5 poi tornante sinistra tornante destra e 40 traguardo u fut ont sub 10 4 muff e Grazie a tutti. 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 Destra 4. E-40. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. questo video. è venuto a tutti. a tutti. anche a tutti. qui 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 a tutti. amici a tutti. amici a tutti. grazie a tutti. a tutti.